Sarà forse il primo caso del genere nell'Agrigentino. L'ultimo in tema è accaduto giorni addietro a Bologna, dove è stata conferita una laurea honoris causa al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ebbene, a Palma di Montechiaro si è deciso di assegnare la licenza elementare a Fonsio Purtusu. Sì, esatto, Alfonso Restivo di Agrigento al secolo, anzi al millennio, Fonsio Purtusu, in occasione della Sagra del Mandorlo in Fiore, sarà insignito del prestigioso riconoscimento dall'Istituto Comprensivo Angelo d'Arrigo di Palma di Montechiaro, diretto da Naura Carmen Sanfilippo. Fonsio Purtusu è da sempre la mascotte della Sagra, perché vestendo i panni del paladino crociato accompagna i gruppi lungo le sfilate cittadine. Ecco dunque la motivazione della licenza elementare honoris causa a Fonsio Purtusu. A Fonsio Purtusu per l'impegno a favore delle tradizioni popolari e folcloristiche siciliane e agrigentine. Ma io mi calmo qua, ho i giunghi in tasca, mi prendo una giunga, me la metto in mucca, e cominciamo a ciecare, e così in erbe me si calmano. A Fonsio Purtusu 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 A Fonsio Purtusu